Ok, ora passiamo al prossimo argomento, entriamo un pochino più nella viva e andiamo a vedere come si lavora con i singoli elementi di types, diciamo di javascript in realtà, ma con types, anche perché io sto comunque continuando in realtà a seguire quella che è la doc, vedete dopo i primitivi, poi ci parla un po' di array che noi vedremo successivamente, ma poi dopo lui va effettivamente a farci vedere Eni e come lavorare con appunto le funzioni, sto seguendo esattamente la doc, ricordatevi che la doc non è la cosa più divertente del mondo, la legge, sono d'accordo, però io non sto facendo nient'altro che seguire la doc e cercare di spiegarvela, dandovi un pochino più di contesto e facilità nell'andare a comprendere quello che vi ho scritto, che sono molto d'accordo e che tante volte sembra troppo, troppo difficile, ma noi stiamo esattamente seguendo la doc, questo sarà il vostro punto di riferimento, oltre al codice che io poi ovviamente vi lascerò. Ma andiamo ora a lavorare con le nostre funzioni e a chiarire un pochino di dubbi. La prima cosa che possiamo andare a fare è scrivere la nostra funzione molto semplice, che chiameremo function add2. La nostra funzione add2, potete immaginare cosa effettivamente farà, prenderà un parametro, quindi metteremo param e ritornerà param più 2. Ora, come vedete c'è una piccola sottolineatura che ci sta dicendo un qualcosa, che il parametro, che si chiama param, ha come tipo implicito, quindi gli sta inferendo, da solo che è di tipo eni. Questo cosa vuol dire che se io scrivessi add2 e gli passassi 1, farà la somma giusta, se gli passassi parenzo, lui farà parenzo 2 come risultato e nessuno qua sta piangendo. Quindi ecco, mentre quando andiamo a lavorare con quello che è una variabile che andiamo a definire in un certo modo, quindi const 2, ecco che è uguale a 2, lui va a inferire che è di tipo number, anzi in questo caso è una costante, quindi 2 sarà 2. Andiamo a mettere let, per essere un pochino più precisi, che dovrà essere di tipo number, quindi va a inferire che tipologia di dato è da solo e lo azzecca. E quindi è opzionale non andare a dire che sarà di tipo number, ovviamente lo posso fare ma non è necessario. Quando andiamo invece a lavorare con le funzioni, ecco, in questo caso ragazzuoli, è mandatorio andare a definire che cosa vogliamo che venga messo qua dentro. Perché se non avremo due problemi, il primo è che lui dirà che accetta any e soprattutto il peggiore è che lui ritorna anche any, come possiamo vedere. Quindi questa roba qua è totalmente, può fare esattamente quello che gli pare e piace, una mina vagante in mezzo al nostro codice. Andiamo a risolvere questo problema, andiamo a dire che param cascasse il mondo è un number, non ci interessa, inizia già a piangere e questo vuol dire che lui ritornerà a questo punto un number. E sopra questo non ci piove in nessun modo. Quindi se io qua metto parenzo, lui andrà assolutamente a piangere. Questo tra l'altro cosa vuol dire? Che io poi all'interno della funzione potrò fare solo alcune cose con i miei dati. Per esempio andassi a definire una funzione che si chiama function value uppercase, quindi lo fa diventare maiuscolo. Ecco che io ho bisogno di ottenere una stringa. Quindi se qua andrò a dire che voglio usare value uppercase e gli passerò param, io in questo punto non lo posso andare a fare e vengo avvisato. In questo modo il mio codice è molto, molto safe. Questo perché? Perché io non posso in nessun modo usare uppercase su questo elemento. Lui non è una stringa qua, io ne ho bisogno che lui sia una stringa. E attenzione a questo qua togliessi questo non avrei nessun pianto perché accetterebbe a any e questa cosa ovviamente non funzionerebbe perché ho metto che sui numeri non esiste. E quindi ho bisogno di andare a convertirlo e poi andare a lavorare nuovamente con parametro o comunque andare a fare qualcosa di differente. Quindi ecco come andare a definire i parametri che io considero veramente obbligatori con le virgolette perché se io non lo faccio non è obbligatorio ma diventa obbligatorio per scrivere del vero codice. Andare a raggiungere proprio questi parametri in questo punto. Diciamo che il tipo di ritorno che voglio nella funzione, se la funzione fa operazioni più complesse, allora ovviamente va esplicitato perché ho bisogno di un certo tipo di dato. In questi casi lui va a inferirlo direttamente perché sto facendo una somma, sto aggiungendo due, gli passo un numero e voglio che sia un numero. Però se io volessi appunto passare una stringa, ecco che in questo caso mi va a segnalare che il number non va bene. Ricordo sempre che nonostante questa roba qua sia un completo disastro per Timescript se ne andassimo proprio a compilare e a dire tsc e andiamo a compilare 01. Facciamo così che ci spostiamo prima in cd 01 basi e poi andiamo a fare un tsc w functions. Lui andrà a cercare di compilare ogni volta che salva, sì adesso lui qua si metterà a piangere tra poco perché bisogna avere solo una variabile con lo stesso nome, quindi bisogna dire di esportare parentesi vuote così smette di fregnare. Ok, abbiamo tolto questo pianto. Nonostante appunto questa roba qua sia un disastro, comunque ricordo sempre, lo ricordo tutto il corso che questa cosa qua funziona così, che lui comunque se ne fotte e va a compilare. Compila e dopo tu ti trovi l'app spaccata nonostante qua comunque ci sia un errore. Sì io sto dicendo che qua voglio una stringa, non è che ti trovi un errore, qua ti uscirà un numero e basta. Io qua non sto ritornando niente, se io qua appunto andassi a dire che const new param è uguale a valido per case di param dot to string, ok? Ora io a questo punto se ritornassi qua new param, ecco che tutto quanto ora ha finalmente un senso.